I presunti capi del clan San Germano, Cosca sgominata ieri da un'operazione della DIA di Napoli dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, hanno fatto tutti scena muta davanti al GIP che ha firmato l'ordinanza di 1600 pagine contro il clan. In silenzio è rimasto il 42enne Agostino San Germano assistito dal penalista Raffaele Bizzarro che ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ora si punta tutto sul riesame. Scena muta anche per gli altri principali indagati sottoposti alla misura cautelare in carcere a partire dal fratello Nicola San Germano al braccio destro Paolo Nappi detto Papino al cognato del boss Salvatore Sepe. Ha rilasciato invece dichiarazioni spontanee l'indagato Angelo Grasso difeso dall'avvocato Aufiero. Lunedì inoltre sono stati fissati gli interrogatori di garanzia per gli altri indagati sottoposti alla misura cautelare in carcere tra cui quello di Luigi Vitale coinvolto già nel processo sulle conivenze tra esponenti del clan e gli amministratori del comune di Pago Vallolauro. Il clan San Germano aveva il predominio sull'area nolana e grazie ad alcuni suoi uomini aveva allungato i tentacoli sul territorio erpino in particolare su quello di Monteforte. Il gruppo criminale sgominato dalla DIA aveva puntato a due ristoranti per imporre i loro prodotti. I San Germano erano soci del caseificio San Giacomo di Nola ed è per questo come si evince dalle intercettazioni telefoniche che imponevano la mozzarella alle due attività ristorative della parte alta di Monteforte.